Benvenuti ad un nuovo appuntamento con Edicola Bellun, la rassegna stampa di Radio ABM. Un saluto anche a chi ci sta guardando attraverso la nostra pagina ufficiale Facebook, attraverso il nostro canale YouTube. Dai nostri studi in Via Cavour 3 a Belluno, Marco Crepas vi accompagnerà nella lettura di oggi, in questo caso della rivista Bellonesi nel Mondo, il mensile della nostra associazione che puntualmente viene inviato tutti i mesi a tutti i nostri associati sparsi in tutto il mondo. L'edizione di marzo si apre con questa copertina, vediamo subito la foto presente in copertina che rappresenta una edizione del Brusa la veccia di Tricchiana, infatti la copertina di marzo è proprio dedicata al tradizionale evento organizzato dalla storica proloco del comune di Tricchiana, adesso comune di Borgo Valbelluna e questo è il titolo, Tricchiana, Brusa, la veccia, il governo, l'esenzione IMO ai nostri migranti, quindi un doppio titolo, il primo ovviamente riferito alla veccia di Tricchiana e secondo invece dalla scelta del governo italiano di eliminare l'esenzione IMO a tutti i nostri emigranti in pensione iscritti all'aere. Apro una parentesi però, la Brusa la veccia era in programma il 21 marzo e questo è il motivo per cui avevamo dedicato la prima pagina proprio alla Brusa la veccia di Tricchiana, ci è appena stata data comunicazione che a causa del coronavirus ci sarà uno slittamento di due mesi e quindi la Brusa la veccia di Tricchiana verrà realizzata, verrà bruciata quindi questa veccia, ancora due mesi di attesa nel mese di maggio. Vi teremo informati e garantiremo, come l'avevamo già detto, la diretta di Radio ABM. Ma addentriamoci nella lettura del mensile Bellunesi nel mondo. L'articolo di fondo a firma del direttore responsabile Dino Brida è proprio dedicata alla decisione del governo di eliminare l'esenzione IMO per gli iscritti aria in pensione che coinvolge ovviamente anche molti bellunesi. Il titolo è seguente, una casetta in Canada, no al paese mio. Ricordate la canzone cantata da Gino Latil al festival di Steremo del 57 nella quale si parlava di una casetta in Canada dolorosamente incendiata a ripetizione da un certo pinco-panco e puntualmente ricostruita dal povero protagonista di nome Martin. Oggi c'è qualcuno che non incendia le case, bensì le tartassa. Mi spiego meglio, dal 66 per i primi 20-30 anni di attività della nostra associazione nel mondo, dell'associazionismo, dell'emigrazione, la loro AIB era famosa per essere sempre sulla barricata e pronta a tutelare i basilari interessi dei nostri conterranei sparsi nel mondo. Eravamo un elemento trascinatore poiché forti del consenso della nostra base associativa. Nel palazzo qualcuno ci guardava indispettito come succede sempre quando si disturba il manovratore. E ovviamente l'ABM tornerà nuovamente battagliera per far fronte a questa ingiustizia. A tal proposito un approfondimento è sempre presente nell'articolo di fondo di Dino Brida. Imo iscritti aerei, cosa possiamo fare? In merito all'accelerata decisione del governo di eliminare l'esenzione Imo alle iscritti aerei in pensione l'associazione Beronesi del Mondo, oltre ad attivarsi con l'UNAI e sollecitare un incontro politico con i nostri parlamentari, ha interpellato l'ANCI, l'associazione nazionale comuni italiani, per chiedere un'eventuale soluzione in caso ci fosse una fumata nera prevedibile. A livello governativo, questa è la risposta dell'ANCI. Non essendo stata riproposta l'assimilazione prevista dall'articolo 13 del DL numero 201 2011, gli aerei non hanno un regime particolare, è facoltà del Comune deliberare un'aliquota pari a zero e l'associazione Beronesi del Mondo invierà nei prossimi giorni una lettera ai sindaci del Beronesi invitandoli a deliberare un'aliquota pari a zero per i Beronesi iscritti all'aere con una proprietà in provincia di Berluno. Nel prossimo numero di Beronesi del Mondo vi daremo un aggiornamento del caso. Continuiamo a sfogliare i Beronesi del Mondo, abbiamo presente immediatamente la rubrica, la foto del mese, in questo caso riguarda un particolare della Grande Mela. Siamo a New York, la foto ci è stata inviata dal nostro socio Mauro Lazzarini, il nostro socio Mauro Lazzarini ci ha inviato uno scatto fatto dal suo ufficio, un panorama mozzafiato con Central Park e parte della Grande Mela. Mauro vive da dieci anni a New York ed ecco che possiamo ammirare questa fotografia scattata dal suo ufficio. Un salutone anche a Mauro che è socio dell'associazione Beronesi del Mondo e ci ascolterà a Radio ABM. Focus, un approfondimento riferito invece alla Brexit che è partita, quindi Beronesi nel Mondo propone un piccolo vademecum, un aiuto per il sito status, il consolato italiano a Londra apre un nuovo sportello e attraverso i nostri soci presenti, in questo caso nel Regno Unito, abbiamo fatto un'intervista, quindi troverete un'intervista di Beronesi del Mondo fatta a Vagna Marinello, una Beronesi nel Regno Unito, prima e dopo la Brexit, con una serie di domande specifiche ma anche con una serie di suggerimenti che porta proprio Vagna Marinello a chi deciderà di trasferirsi nel Regno Unito o di chi, come lei in questo momento, si trova proprio nel Regno Unito. Spazio anche al coronavirus, pagina 10, colpito anche il Veneto e chi vive in Cina, la testimonianza del belonese Michael Bellus, abbiamo voluto fare un approfondimento appunto in merito ad un belonese che vive da diversi anni in Cina e che ci racconta come sta vivendo questa situazione del coronavirus che comunque, lo sapete già tutti voi, ha colpito duramente anche il nostro paese, parliamo dell'Italia ma in modo specifico anche la Regione Veneto. Presente anche un box di lato con l'opinione in libertà La prudenza non è mai troppo, una riflessione sempre di Dino Brida, direttore responsabile della rivista Bellonesi nel Mondo. Le pagine di attualità si aprono invece con una situazione di emergenza dei nostri negozi, come aiutare le piccole attività della provincia di Belluno? Questo è il quesito che si è posto, Paolo Doglioni che è il presidente di Confcommercio Belluno, una situazione difficile perché molti negozi, soprattutto negozi piccoli dei paesi di montagna, stanno chiudendo in questi ultimi anni. E un freno alle grandi catene, questo è il quesito che si pone Oscar De Mona, presidente ABM, di certo la scomparsa dei piccoli negozi è sotto gli occhi di tutti, burocrazia e sempre più tasse sono le principali cause, ma di certo non dobbiamo nascondere anche il predominio delle grandi catene che come funghi costruiscono da un giorno all'altro nuovi centri commerciali e supermercati, magari anche uno davanti all'altro. Una notizia positiva invece arriva dal Fondo Comuni Confinanti che investe sul vivere in montagna. Sempre dall'attualità Italia in segno negativo, continua inesorabile il calo della popolazione, articolo a firma di Simone Tormen, continua il calo della popolazione in Italia. Il primo gennaio 2020 il nostro paese registra una perdita di 116 mila residenti rispetto alla stessa data dello scorso anno. A rilevarlo l'Istat nel suo report sugli indicatori demografici 2019, pubblicato a febbraio. Sempre dall'attualità Poste Italiane è ora di dire basta al suo disservizio. Un incontro per dire basta ai disservizi di Poste Italiane l'ha organizzato giovedì 20 febbraio l'Associazione Bellunesi nel Mondo con i responsabili dei periodici pubblicati in provincia di Belluno e nel Trevigiano. Notizia anche che riguarda il taglio dei parlamentari. Il 29 marzo parola ai cittadini. Il 29 marzo i cittadini italiani in Italia e all'estero saranno chiamati ad esprimersi sulla riduzione del numero dei parlamentari. Anche in questo caso, devo aprire una parentesi, il referendum è stato posticipato e in data ancora da comunicare a causa del coronavirus. Quindi ovviamente noi avevamo già inviato la nostra rivista e adesso questo aggiornamento vogliamo darvelo. La pagina di economia è dedicata al gelato artigianale, un prodotto che vale miliardi, articolo sempre a firma di Simone Tormen, un business da 16 miliardi di euro con 108.000 centri di produzione, 65.000 punti vendita, 315.000 addetti sparsi in 76 paesi e una giornata europea, quella del 24 marzo, in suo onore. I dati arrivano da SIGEP, il Salone Mondiale del Dolciario Artigianale, e fotografano lo stato di salute di un prodotto che ha reso celebre l'Italia in tutto il pianeta. Stiamo parlando del gelato artigianale, dolce macchina da soldi, il cui motore risiede proprio in Europa. Bellissime come sempre le foto, i documenti che riceviamo a cadenza mensile e che ovviamente pubblichiamo. Queste due fotografie, perché ci sta guardando da Facebook o YouTube, rappresentano la prima Malensk Anton Grigioni, fine anni 40, a sinistra Celeste De Martin, nato nel 1911, di Roe Alte. A destra Dolce Giacomo De Martin, nato nel 1919, anche lui di Roe Alte. La foto invece di destra, gruppo di scalpellini tagliapietre e cavatori belonesi nell'impero ostro-ungarico. Il primo a sinistra è Domenico Carlin, papà di Don Mario, per gentile concessione di Valentina Losego. La prima foto invece ci è stata consegnata da Alma Cibien. Oltre alle foto sono presenti le cartoline storiche che sono tratte dalla collezione di Rino Budel. La prima riguarda Mareson di Zoldo Alto, la foto Burloni Belluno, guardate questa fotografia di straordinaria bellezza di un tempo che fu in provincia di Belluno. La seconda invece riguarda Padola, il paese più settentrionale d'Italia, l'altezza è di 1230 metri, con il monte Aiernola che è alto 2345 metri. Numerose come sempre le lettere in redazione e ci sono anche i documenti storici. In questo caso un documento che ci è stato dato da Pietro Ulpi e che rappresenta un foglio di via rilasciato dal Consolato d'Italia Denver-Colorado a Giuseppe Fontanive di Agordo. Il documento è datato 17 ottobre 1919. Libri e documenti ricevuti. Vi ricordo che tutti i libri vengono inseriti all'interno del catalogo della nostra biblioteca, quindi possono essere tutti richiesti con il prestito e l'interprestito. Il primo riguarda Michelangelo Corazza, l'uomo di Zoldo, Arnoldo Moreno, editore, e ancora Fabiana Fusco con Le lingue della città, plurilinguismo e immigrazione, Audine Carocci, editore. Lois Bernardi invece ha pubblicato La ruota dell'ultimo carro, attrezzi e ambienti di vita della famiglia contadina, edizioni DBS di Rasai di Seren del Grappa. E ancora una pubblicazione e una mostra su un grande indimbindicabile artista, parliamo di Masi Simonetti, Montagni e Montanari a cura di Matteo, Dadeppo e Benedetta Salerno. La foto di copertina ve l'avevamo già anticipato, è riferita alla Brusa Laveccia, era in programma il 21 marzo, ma è stata posticipata al 21 marzo, ma abbiamo inserito anche un articolo interessante e curioso, riferito a un passato davvero bello dell'associazione belunese del mondo, che riferiva la Brusa Laveccia che si portava a Milano, grazie al supporto della famiglia belunese di Milano. Abbiamo pubblicato un articolo pubblicato nel 1988 sulla rivista Belonesi nel mondo che ricordava appunto l'avvenimento della Brusa Laveccia a Milano. Viaggio nella spiritualità, la rubrica cura di Francesco D'Alfonso è dedicata alla queresima Tempo per la vita. Abbiamo due pagine invece dedicate alla migrazione al femminile, la prima in cui viene presentato il progetto SONV, uno sguardo al femminile sull'emigrazione, la seconda invece che riguarda un blog in rosa per fare rete tra donne italiane all'estero, la prima scritta che ti accoglie quando accedi al portale è una dichiarazione di orgoglio, il bello delle donne è che hanno paura ma alla fine trovano il coraggio di fare tutto. Infatti ci vogliono entrambi coraggio e orgoglio per decidere di lasciare tutto e partire. Questo è il sito donne che emigrano all'estero.com La rubrica di mese in mese è una finestra dedicata alle notizie principali che si sono susseguite nelle principali vallate del bellunese, parliamo della Gordino, parliamo della Val di Zoldo, dell'Alpago e dell'Ongaronese, parliamo del Cadore, del Feltrino e del bellunese, che mi sembra ve l'ho detto. La rubrica bellunese di cui si parla invece dedica spazio a Lucia Busatta, una giurista bellunese nel nuovo comitato regionale di Bioetica e un omaggio invece a Loris Appollonia, ci ha lasciato Loris Appollonia, persone impegnate a servizio degli altri. Le pagine dedicate alla curiosità si aprono con la geletteria Fain da Forno di Zoldo, Buenos Aires, un articolo a firma di Ernestina dalla Corte Lucio, direttamente da Buenos Aires, ancora carta d'identità, notizia per chi vive in Francia, quella elettrica disponibile in tutti i consolati italiani in Francia. La foto curiosa riguarda invece un pannello che presenta l'ingresso della sede dell'Associazione Belonesi nel Mondo e del Minbelluno, che rappresenta generazioni a confronto. Le sagome dei tre emigranti poste all'esterno del Minbelluno documentano la partenza di Belonesi per la Svizzera nei primi anni del Novecento. I primi due da sinistra sono Carlo e Joachino Bortot, fratelli di Longano, sedi col terzo non è stato identificato. Ma l'uomo è imposa sotto l'immagine, Dario Bortot, nipote di Carlo, passato all'ABM a salutare il nonno. E ci sono anche i seggiolai canadesi, lo vediamo qui in queste foto. Inviateci da Ariella Dalfarra-Ostetter, belunese a Ottawa. Vediamo le sedie realizzate da Antonio Renon, nato a Gosaldo e con un passato da seggiolaio prima della Seconda Guerra Mondiale. Notizia anche da Belluno, ente provincia, eletto il nuovo consiglio. Vediamo qua i consiglieri provinciali, neo eletti. Nel box a sinistra invece una notizia che riguarda il coro Montedonada. Cambio di guarda, il nuovo presidente è Loris Bona. Stesse radici, Sovezene e Cocal do Sul firmato il patto di amicizia. Ecco in questa foto il gruppo, la comitiva che è arrivata dal Brasile e precisamente da Cocal do Sul in visita al comune di Sovezene dove appunto è stato siglato questo patto di amicizia. Ma altri raduni si sono tenuti, questi riguardano il Baratin Day da tutto il mondo a San Martino. Siamo nella frazione di Chies dal Pago e vediamo appunto la struttura della frazione di San Martino al completo ovviamente con la grande parentela dei Baratin. Per l'associazionismo un premio d'onore, una cerimonia da non dimenticare, parola di Vitalina e il commento e la testimonianza della premiata Vitalina per quanto riguarda l'edizione 2019 del premio internazionale belunesi che onorano la provincia di Belluno in Italia e all'estero. Il mondo dello sport dedica spazio a Gabriele Brino che insegue il suo sogno un numero uno nel Regno Unito e ancora giocando con crescere la rubrica a firma di Gianluigi Bazzocco un'altra rubrica interessante è quella a firma di Raffaele De Rosa riflessioni linguistiche giocare fuori casa questo il titolo. Dalla regione Veneto notizia invece per il sociale 20 milioni a progetti sui mobili per non autosufficienti spastosissime come sempre invece le barzellette presenti nella rubrica a firma di Gioacchino Bratti il nostro dialetto le barzellette sono di Rino Dalfarra non può non mancare la poesia del mese ovviamente in dialetto bellunese al spray i simpatici i pittoreschi vizi di una volta e ancora i modi di dire di Rino Budel tutto ovviamente in dialetto bellunese. La rubrica storie di emigranti dedica spazio ai minatori che festeggiarono Bartoli una notizia Bartoli scusate una storia davvero toccante che è stata raccolta da Luca di Pangrazio e questa edizione di Belonesi del Mondo termina con le pagine dedicate all'agenda delle famiglie siamo in Brasile Gertrudes Reolon nominata console onorario d'Italia ad Ereshim e tra gli ex emigranti fusione di famiglie questo il quesito del mensile belonesi nel mondo se ne è discusso a Seren del Grappa e ancora tra gli ex emigranti tutti a Lourdes una gita organizzata dai gelatieri dell'Unitais e termina questa edizione con un doveroso ricordo ai nostri soci che ci hanno lasciato nel corso del 2020 o di chi li vuole ricordare e lo spazio termina anche con un servizio del Parco Nazionale Dolomiti Belonesi dedicato al progetto il sentiero dei lupi un progetto di comunicazione per sapere di più sul ritorno del predatore del Parco queste le notizie che troverete nell'edizione di marzo del mensile belonesi nel mondo prima di salutarvi vi lancio l'appello non so se lo sapete ma Radio ABM se voi donate il 5 per 1000 all'associazione belonesi nel mondo sosterrete anche la nostra web radio Radio ABM questo è il codice fiscale questo ovviamente un messaggio che lanciamo ai bellonesi ma ai nostri amici bellonesi che risiedono in Italia che hanno un reddito in Italia con la denuncia dei redditi possono donare il 5 per 1000 all'associazione belonesi nel mondo questo è il codice fiscale 0021 35 82 51 e donando il 5 per 1000 all'associazione belonesi nel mondo sosterrete anche Radio ABM la web radio dell'ABM quindi l'invito è che siate generosi a voi alla fine non costa nulla ma per noi vuol dire molto quindi donate il 5 per 1000 all'associazione belonesi nel mondo questo è il codice fiscale 0021 35 80 25 1 è davvero tutto per questa edizione di Edicola Belluno noi ritorneremo domani con la lettura dei quotidiani il Correre delle Alpi e il Gazzettino di Belluno a tutti voi una buona domenica in compagnia di Radio ABM Voce delle Dolomiti